mamma mia mamma mia che spettacolo allora bentornati ragazzi un altro recensione recensione piccola recensione anzi una condivisione di goduti ragazzi oggi vi voglio parlare con entusiasmo direi delle castard ragazzi con i controcazzi non ce n'è non ce n'è per nessun altro io sto parlando con voi con te sì con l'amante della castarda tu che stai cercando la castarda perfetta tu che provi mille liquidi e alla fine ti rimane sempre dico però non è come mi aspettavo ecco io l'ho pizzicata l'ho pizzicata per te te l'ho trovata ti ho trovato una castarda coi controcazzi sbamf certified tanta 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 roba ragazzi tanta roba esagerata due tipi addirittura due tipi di castarda ho trovato due tipi ma che cazzo vuoi di più due tipi di castarda allora facciamo un attimo nei seri e abbassiamo un attimo nel chiuso perché sono veramente tanto tanto entusiasta di questi due di questi due liquidoni che ho trovato c'è tanta roba ragazzi bella grassa capito la base strepidosa allora i liquidi nella fattispecie sono certo mi sarei emozionata anche la camera si è spenta ma noi andiamo avanti e continuiamo con questo video perché vi devo troppo troppo far partecipi di questa chicca di questo spettacolo di castarda allora dicevo i due i due liquidi nella fattispecie sono certified abbiamo il 365 e il co 365 castardone sublime vaniglia custard e butter scotch cioè che voti che fa? che voti che fa? da paura il certified codice è una bella vaniglia con cocco custard mamma mia ragazzi qui top level top level allora la base è una base super cremosa guardate che densità che densità bella grassa il co il co una volta che tu lo sbavi ti rimane in bocca il retro gusto di cocco una sorta di cocco caramellato no? perché comunque è un processo alla castard quindi strepitoso dopo un po in sottofondo dopo un pochino che non hai svapato difficile non svaparlo dopo un po che hai finito la sessione di svapo ti rimane questa è proprio vaniglia ti rimane questa vaniglia fenomenale però poi questo è buonissimo il co però il mio preferito tra i due perché c'è proprio uno al top dei top il top del top è lui 365 sicuramente indicherai che tutto l'anno tutti i giorni tutto il giorno te svapi sta custard e non dirai mai basta cioè t'ha stufato non ti stufa mai per gli amanti del castardone unico vero eccezionale eccolo qua certify 365 allora questo però diciamo c'è anche un però da dire perché questa chicca comunque ce l'ho avuta tramite il mio grande amico e quindi la portate lui in negozio ed li trovate soltanto da lui tanto da lui che qua sotto farò passare il nome del negozietto dello shop e lì tanta roba tanta godura i ragazzi perché questa castard per il mio concetto di castard poi questa è una vaniglia castard e batter scotch una coppiata fenomenale una coppiata fenomenale cioè alla fine voi smetterete di svaparlo quando finisce sta boccia tra l'altro boccia di 50 ml io le avevo provati le passaggiate me le ero goduti prima del tpd adesso l'hanno fatto in versione mix series uguali perfettamente uguali hanno caricati di più così vi danno 50 diciamo tipo una quarantina di ml più 10 ml nicotizzati perfettamente identici come quando l'avevo presi senza il mix shake senza serie mix mix and vape queste puttanate che hanno fatto adesso però sono rimasti uguali la densità non so se riuscite a notare ma molto molto densa sicuramente 80 20 vediamo se c'è specificato qui sull'etichetta se è un 80 20 magari vi sto dicendo una bagianata però no non è non è specificato qui sull'etichetta però sicuramente sono 80 20 bello grasso corposo l'aroma è intenso molto intenso per chi ama i sapori decisi è il top poi per chi c'ha la fissa come me delle vaniglie custard con questo hai trovato la pace dei sensi l'hai trovata erpiota ha tirato fuori sta chicca che non t'ha poi fa sfuggire no c'è proprio è buono non c'è niente da fare niente da dire non aggiungo altro ragazzi se vi piace la custard se siete fan se siete malati di custard come il sottoscritto certi fai non ci stanno cazzi eccolo qua questa è la vostra soluzione poi sono curioso se la se seguite il consiglio assaggiate e mi fate sapere mi fate sapere perché secondo me delusi non ne rimarrete assolutamente lo spettacolo ragazzi che dire ultima sbattata e continuo a godere bella raga stay crisp mi raccomando sempre stay crisp musica 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.